Ciao ragazzi benvenuti sono su Freestyle Football e ragazzi sono entrato in un clan italiano in questo giochino questo giochino vi ricordo che si trova free to play su steam è un gioco di gaccetto io già ho fatto il primo episodio se non l'avete visto andate a vedere ragazzi e sono attualmente livello 56 ho nerdato tantissimo su sto giochino ragazzi sono entrato in questo clan Italian Kicker in pratica ragazzi questo clan è quarto al mondo attualmente cioè è un clan italiano e io sono entrato ragazzi e sono tutti dei bravi ragazzi sono riuscito a fare qualche partitozza e ci siamo divertiti tantissimo adesso ragazzi io farò qualche partita con loro ci becchiamo dopo ragazzi dopo la sigla nooo ma che liscio ho sbagliato anch'io no quasi sono forti è un domenico di essere forti lo sono perché sono i primi nel mondo però li abbiamo già battuti parecchie volte non sono fenomeni no no dico che faccio i passaggi tempi che mi intercettano devo giocare più di eh sì eh sì bello bello ma che cazzo ma io non capito l'offside come funziona questo è meraviglioso cosa ah l'offside come funziona scusa e vabbè dipende a volte funziona a volte non funziona show them your moves e quando li gira insomma come funziona come funziona bello ma prima cazzo che cos'è passaggio bello no ma porca miseria è un fastidio quando fa così ma che ne so io tranquillo che è un po' di gioco ma cosa l'aveva fatta la finta già è andato di muso a terra nel portiere oh manui che ha deciso la partita you know how to handle the ball bello bello peccato sta nel nostro stesso gruppo bello vai provate tira 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 nooo il portiere dov'era era lì si è teletrasportato il portiere era a sinistra prima nooo bello è lo script quando non voglio che hai segno è la tattica che cazzo oh bellissima io poi ti insegno ti insegno faccia così poi ta 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 ma perché così io ero ma qui dove c'è non l'ho appassato i piedi buona Già è stampata, vittima, però... L'hai smontata! Ma stardo la miseria! No! L'hai disorientato! Eh, l'hai disorientato! E c... come hanno fatto a prenderla che... è l'arto di me? Bello! Perciò! Perciò! Belli! Oh! 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 Dai, lo possiamo ribaltare! Eh, che cazzo sembra costilisci! Buona! Ma tutte le prendi che ho scivolato! Buona! Oh! Oh! Bellissima ragazzi! Io mi sa che batto pure il bambino! Oh! 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 Andato Di me ne ho una volta noi! Che la fortuna ce l'abbiamo! Allora che scatta! Scatta! Oh che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Non l'ho capito! Neanch'io sinceramente! che non posso è lo che è sbagliato ma che caspita eh oh se non è che c'è Benji un po' anche dietro se vuoi cazzo è per il portiere ho sbagliato cazzo ho scartato pure il portiere nooo così volevo darla più larga l'attaccante addosso non capisco perché ogni tanto fa sta cagata belle fantastico fantastico che rimonta ragazzi pazzesco 7 secondi grande portiere vai passa io vedo tempo perché portiere di merda che cazzo fai portiere? ma se prendiamo golin comincio a bestemmieri in aramaico gliel'ha passato lui per perdere tempo vai va bene ragazzi come avete visto ho fatto qualche partitozza con i ragazzi ragazzi è molto divertente questo giochino provatelo poi fatemi capire se vi piace questo gioco se volete vedere altre partitozze magari ragazzi gioco insieme a voi se giocate anche voi con questo giochino ragazzi comunque commentate in tanti lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.